il rientro dell'Endever ok andiamo ancora andiamo? seguimi sulla spalla ti ricordi? i due giovani rumeni si erano dati appuntamento qui nel centro di Mozzecane con un po' da... un po' dappertutto un po' dappertutto sai saluto giovane andiamo? la bandiera bianca che sventola c'è il trattore poco più indietro un carico di liquame ok andiamo? sta registrando? questo è il mare che porta nel vecchio continente aspetta mi sono incartato un po' questo è il mare che da qui porta al vecchio last one il telegiornale fra mezz'ora vi aspettiamo con Elena De Vincenzo in diretta nelle notizie dall'Italia e dal mondo grazie e buona giornata ma su quello o su questo? questo non è vero Cesco dai andiamo? come fai a capirlo? andiamo? ci sei? sì perché era un po' che aspettava dalla città che guarda all'occidente Smirne, Turchia, Ferdinando Avarino, Canale Italia facciamone un altro basta tirarsi sui pantaloni di pochi centimetri per guardare il fiume Piave ormai come vedete il letto è formato tutto da questi isolotti emersi per la siccità record questo è un mare che porta al vecchio continente aspetta un paese dai mille contrasti sulla via dell'occidentalizzazione su un paese dai mille contrasti ci sei? ecco questo è uno dei tanti camion another one stai registrando? e visto che tutto il mondo è il paese soprattutto si riconosce nel gioco del calcio succede anche qui in Libano tu cosa fai? mi segui? fai quello che vuoi? ok, e poi non muovo ok? guardate, guardate no, vai pensavo di morire